Ci sono sei nuovi ingressi, ma tre comuni non sono stati riconfermati. Si presenta così la mappa delle spighe verdi, disegnata dalla Foundation for Environmental, l'Organizzazione Internazionale per l'Educazione Ambientale, che ogni anno assegna la bandiera blu alle località turistiche di 50 paesi. In Italia promuove, con Confagricoltura, il programma pilota per lo sviluppo rurale sostenibile, giunto la non-edizione. Centrale nel progetto Ruolo dell'Agricoltura nella difesa del paesaggio per ottenere la certificazione spighe verdi, i comuni devono rispondere a diversi indicatori, tra i quali l'uso del suolo, l'offerta turistica, la presenza di produzioni tipiche, la gestione dei rifiuti, la funzionalità degli impianti di depurazione. Nel 2024 il riconoscimento va a 75 località, erano 72 nel 2023 di 15 regioni. Conta il maggior numero di comuni presenti, il Piemonte ne ha 13, 9 le Marche, la Toscana, l'Umbria e la Puglia arrivano a 8. Uno soltanto in Basilicata, così in Emilia-Romagna, e in Sicilia, che vede entrare per la prima volta Ragusa tra le spighe verdi, riconoscimento che valorizza il ruolo centrale dell'agricoltura nello sviluppo delle aree rurali e l'impegno degli agricoltori che gestiscono i due terzi del suolo italiano.